Finora abbiamo visto come muoverci all'interno di un testo, ma visto che la funzione di un editor di testo è quella di poter modificare il testo, in questo video andiamo a vedere i vari modi possibili per inserire del testo. Come per il video precedente, penso che questo video possa esserti utile anche nel caso in cui non utilizzi Vim o NeoVim, ma un altro editor e installi un plugin per avere i movimenti di Vim. Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Come nello scorso video, anzi più che nello scorso video, oggi vedremo tantissimi concetti, quindi prendi appunti oppure riguardati questi video qualche decina di volte. Torniamo al nostro Vim.tiny con lo stesso file che avevamo visto nello scorso video, ed abilitiamo i numeri di linea giusto per non perderci. spostiamoci alla linea 152, giusto per non ritrovarci al proprio inizio file, e spostiamo il cursore di un paio di parole, giusto per non ritrovarci inizio linea. Ok, quindi il modo più semplice per entrare in Insert Mode è quello di premere il tasto I. Ricorda I come Insert. Il tasto I ti porta in Insert Mode al carattere immediatamente precedente alla posizione del cursore. Infatti, se provo a scrivere qualcosa, per esempio, ciao, vedi che viene inserito appena prima della lettera T sulla quale c'è il cursore. Per uscire dall'Insert Mode, ormai non c'è nemmeno più bisogno che te lo dica, premi ESC, ed ecco che sei tornato in Normal Mode. Puoi entrare in Insert Mode anche a partire dal carattere immediatamente successivo a quello della posizione del cursore. Per dimostrarti perché è utile, andiamo a posizionarci alla fine della parola. Dicevo, puoi entrare in Insert Mode a partire dal carattere immediatamente successivo a quello della posizione del cursore, premendo il tasto A. A, ricorda, A come Append. Nota come ora il cursore si sia spostato a destra di un carattere. E se scriviamo qualcosa, sempre con grande fantasia diciamo ciao, nota che è stato messo tra la D finale e il carattere di due punti. Ora, se io voglio inserire dal testo all'inizio della linea corrente, per inizio intendo prima dal primo carattere non vuoto, utilizzo la I maiuscola e sempre con grande fantasia scrivo ciao. Quindi, se la I minuscola inserisce prima del cursore e la I maiuscola inserisce all'inizio della linea corrente, cosa farà la A maiuscola? Esatto, Append alla fine della linea corrente. Ricapitolando, I per Insert, A per Append. Se sono minuscoli, inseriscono al carattere immediatamente prima o dopo la posizione corrente del cursore. Se sono maiuscoli, inseriscono o a inizio linea o a fine linea. Spesse volte, però, ti capita di voler inserire del testo tra una linea ed un'altra. Per esempio, ora mi trovo sulla linea 152, ma se volessi inserire una nuova linea di testo tra la linea 152 e la linea 153? Per rendere evidente ciò che sto facendo, sposto prima il cursore a metà della linea corrente, giusto per dimostrarti che quanto stiamo per fare è indipendente dalla posizione orizzontale del cursore. Dicevo, per aprire una linea di testo tra la linea attuale e quella successiva, il tasto da premere è O, ricorda O come Open. Nota come, oltre ad aver aperto una linea, ci troviamo in Insert Mode, quindi con grande fantasia scrivo nuovamente Ciao. Ma torniamo alla linea 152. Posso anche aprire una linea di testo tra la linea attuale e quella precedente premendo la O maiuscola, ricorda sempre O come Open. Siamo di nuovo in Insert Mode, quindi per non fare torto a nessuno lasciamo un Ciao pure qui. Ecco, una differenza tra una versione minimale di Vim, come in questo caso, rispetto ad un'installazione completa di Vim e NeoVim, è che in un'installazione completa i due comandi Open, O minuscola ed O maiuscola, spostano il cursore orizzontalmente in maniera intelligente, mantenendo la corretta indentazione, anziché aprire la linea e tenere il cursore in posizione 0. Ok, quindi Insert, Append e Open sono le basi per entrare in Insert Mode nel caso in cui volessimo semplicemente aggiungere del testo. Ora vorrei cambiare un attimo argomento e parlare di copia e incolla. Su Vim, l'operazione di copia, è conosciuta con il nome di Yank ed il tasto utilizzato è la Y, appunto Y come Yank. Funziona così. Per prima cosa, sposti il cursore dove ti interessa. Poi premi la Y per Yank e poi gli dai un movimento, per esempio FD. Consiglio che mentre fai questo di ripetare teamente le mnemoniche. In questo caso io avrei ripetuto mentalmente Yank Find D. Abbiamo cosiddetto all'editor di copiare dalla posizione corrente del cursore fino alla prossima lettera D comprese. Quindi in questo caso abbiamo copiato Ciao Thread. La cosa veramente potente qui è che come movimento per il comando Yank possiamo darvi uno qualsiasi dei movimenti sia orizzontali che verticali che abbiamo visto nello scorso video. Mind blown. Ti starei però chiudendo. Un attimo, non ho visto succedere niente su schermo. Come faccio a sapere se quello che ho detto è stato effettivamente copiato? E la risposta è... Non hai un chiaro feedback di quello che è successo. D'altro canto hai espressamente chiesto a Vim di copiare dal cursore fino alla prossima lettera D. Quindi fidati che ha fatto esattamente ciò che gli hai chiesto. Ora, andiamo a posizionarci giù di due linee e andiamo alla fine della parola attuale. Per incollare il testo copiato dopo la posizione del cursore il tasto da premere è P. Ricorda P come put. Ci sono casi in cui però vorrei incollare il testo copiato prima della posizione del cursore. E per dimostrartelo andiamo alla prossima parentesi aperta. Puoi già aver intuito che per incollare il testo prima della posizione del cursore basta premere la P maiuscola. Se ci pensi, questo è coerente col comando Open dove la minuscola effettua l'operazione dopo la posizione del cursore e la maiuscola effettua l'operazione prima della posizione del cursore. Spesse volte capita di voler copiare un'intera linea. E sebbene tu ora abbia già gli strumenti per copiare un'intera linea se a questo punto hai pensato 0 per posizionare il cursore inizio linea y come yank e j per indicare la linea successiva datti una pacca sulla spalla. Questo è il modo di ragionare in Vim. Dicevo, per copiare un'intera linea esiste una scorciatoia che funziona indipendentemente dalla posizione orizzontale del cursore. Basta premere yy. Ricorda, yank yank. Ora, se premo P, vedi che mi ha incollato l'intera linea. Mi posiziono sul prossimo carattere punto giusto per non tenere il cursore inizio linea. Molto bene, abbiamo visto il copia e incolla vediamo ora il taglia e incolla. Per tagliare una parte di testo funziona esattamente come il comando yank ma al posto delle y usi la lettera D ricorda D come delete. Quindi, per esempio, per tagliare il testo fino alla prossima parentesi aperta non compresa scriverò D, T parentesi aperta e a mente penso delete till parentesi aperta. Per incollare il comando è sempre put che abbiamo visto poc'anzi. Per esempio, se volessi incollare quanto tagliato in una nuova linea appena dopo il cursore hai già tutti gli strumenti per farlo. Open Visto che open mi ha portato un insert mode premo ESC per tornare in normal mode Put Come per il comando yank anche il comando delete ha la scorciatoia per cancellare un'intera linea e come avrei potuto intuire basta premere DD delete e delete. Mi posiziono al prossimo carattere di ampersand solo per non avere il cursore inizio linea. Spesse volte però vuoi sostituire una parte di testo con del nuovo testo. cioè dopo aver cancellato una parte di testo sarebbe bello poter ritrovarsi immediatamente in insert mode. Vim ci permette di fare proprio questo con il comando change che funziona esattamente come yank ed elite. Ovviamente vista la mnemonica change il tasto corrispondente è la lettera C. Per esempio se voglio sostituire il contenuto del testo tra parentesi con la parola ciao wow che fantasia oggi scriverò change till parentesi chiusa ciao ESC per tornare in normal mode Come per yank ed elite anche change ha la scorciatoia per sostituire l'intera linea corrente e sì il comando è proprio cc change change con molta fantasia scriviamo ciao e torniamo in normal mode Forse ti starei domandando ma il testo che ho cancellato per sostituirlo con quanto ho scritto in insert mode è stato tagliato? E quindi lo posso incollare? La risposta è sì Infatti se premo put vedi che mi ha incollato quello che avevo prima di sostituirlo con ciao Direi che per oggi abbiamo visto abbastanza tra i comandi di insert append e open per andare in insert mode e i comandi yank put delete e change per effettuare le operazioni più comuni sul testo Prima di concludere il video voglio brevemente mostrarti come salvare i cambiamenti Per salvare i cambiamenti e continuare ad utilizzare Vim vai in command mode col tasto due punti Scrivi W che sta per write e premi invio per eseguire il comando e tornare in normal mode Per salvare i cambiamenti ed uscire da Vim invece vai sempre in command mode col tasto due punti Scrivi W per write e Q per quit Finisci sempre con invio per eseguire il comando Ed ecco che sei tornato al tuo bel prom dei comandi Grazie dell'attenzione Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey Trovi tutti i link in descrizione Alla prossima video Ciao Ci sono casi in cui però vorrei incorporare il testo Scusa Forse ti starei domandando ma il testo che ho cancellato per sostituirlo Wow Wow Grazie.